Un saluto a tutti da parte del sottoscritto Francesco Cerullo del team Visionforex.info quello che vedete visualizzato è il titolo Brembo su time frame settimanale 5 anni di storico, beh, su questa finestra temporale, su questo intervallo di tempo è possibile apprezzare quella che è stata la salita delle quotazioni da 3,70€ a 3,80€ che venivano appunto battuti a fine 2013 i prezzi hanno addirittura sfiorato e sono andati oltre i 15€ per azione nel maggio del 2017 realizzando appunto i massimi di periodo a 15,28€ per azione da lì un pochino di discesa a fase di pullback, ancora possiamo chiamarla così correzione in corso su un arco ovviamente temporale così ampio la situazione non cambia se scendiamo un pochino su un grafico giornaliero perché ovviamente negli ultimi 12 mesi, anche leggermente di più beh, la situazione è piuttosto ben definita da questa serie di massimi e minimi comunque sia decrescenti attenzione però a quelle che sono state gli ultimi minimi di periodo battuti proprio fra il 22 e il 23 di agosto se andiamo a prendere il bottom assoluto del 23 agosto 10,94€ ha sfiorato il minimo annuale battuto il 5 marzo 2018 a 10,89€ fase di reazione, ancora una volta durante la seduta odierna sono un pochino pesanti e ancora una volta le quotazioni in generale sull'Italia non hanno accompagnato sicuramente quello che è stato l'andamento delle giornate precedenti ma tornando invece ad un time frame settimanale la situazione potrebbe essere abbastanza interessante ovvio che da un punto di vista puramente analitico la chiusura di questa settimana poteva sicuramente essere migliore nel senso che qualora si dovesse essere testato un pochino una chiusura verso 11,75€, 11,80€ beh, la configurazione da Morningstar delle ultime tre candele poteva essere sicuramente ad hoc per quelli che sono i dogmi e le nozioni di analisi tecnica beh, sicuramente possiamo dire dal punto di vista analitico che un allungo comunque sia su un time frame settimanale quindi ha bisogno di un po' di tempo alcune giornate sicuramente per appunto veder realizzato questa tesi beh, un allungo al di sopra di area 11,90€ potrebbe riportare compratori sul titolo beh, lo stop sicuramente è da inserire sui minimi settimanali quindi in area 11,07, 11,08 insomma cambia poco anche 11,10 cambia veramente pochissimo per tre centesimi e per quanto riguarda invece i target beh, sicuramente si potrebbe prendere a riferimento un rischio rendimento pari all'1,1 però già un'area sensibile su cui sicuramente portare a protezione quello che è il nostro investimento è proprio l'area degli 12,30€ scusate, 20,12,30€ questa è un'area sensibile su cui si deve assolutamente portare a protezione il nostro investimento per poi andarlo a seguire ovviamente con l'intento di veder realizzato quello che è un movimento rialzista importante per il Brembo che potrebbe appunto andare a interrompere questo pullback e ovviamente anche nel lungo periodo portare magari un po' più di sereno sul titolo questa è la view che è possibile appunto dare in questo momento sul titolo stesso un'ultima cosa un ultimo piccolissimo dettaglio beh, abbiamo detto che lo stop sicuramente deve essere messo sui minimi settimanali ovviamente della settimana odierna il pericolo appunto di una nuova continuazione ribassista con più che altro un'accelerazione a ribasso beh, arriverebbero con la rottura dei minimi della settimana precedente proprio in area 10,95 su questi livelli sicuramente si potrebbero ecco, si potrebbero vedere accelerazioni magari importanti per andare a rivedere immediatamente 10,40€ prima e poi un test sull'area tonda di prezzo dei 10€ non sarebbe da escludere quindi attenzione un pochino a queste dinamiche però appunto cerchiamo di essere positivi 11,90€ il primo livello sensibile per vedere appunto lì magari una lungo rialzista 12,20€ 12,30€ da proteggere immediatamente con il break even il nostro eventuale investimento i 13€ rimangono il livello sensibile per il nostro take profit e ovviamente lo stop sui minimi settimanali ho fatto un riassunto sul finale io come sempre vi ringrazio per chi vuole per chi ne ha voglia ci può seguire ovviamente sul nostro sito con i nostri prossimi appuntamenti io vi auguro ancora un buon fine settimana e un saluto a tutti quanti voi e un saluto a tutti quanti voi